mezza allora una bella partenza in questi playoff per il quinto posto il miglior modo diciamo per dimenticare anche la scurtita della scorsa settimana quindi una squadra che ha reagito ha risposto subito prontamente si adesso il passato è il passato e pensiamo sempre alla prossima obiettiva e questo è il quinto posto adesso quindi adesso è stato importante fare una bella partita e guardiamo avanti venendo a te oggi finalmente sei riuscito a ritrovare il campo a ritagliarti anche un po di spazio che emozione hai provato anche dopo tanto tempo che non che non calcavi diciamo il campo da gioco per me è sempre lo stesso entrare in campo bellissimo quindi mi ha fatto veramente tanto piacere entrare e comunque una prestazione collettiva da parte della squadra molto buona abbiamo visto nei primi due set comunque una una gara in scioltezza poi nel terzo set c'è stato un diciamo un recupero loro però anche noi siamo stati bravi a evitare che magari potessero recuperare troppo e magari riaprire la partita si hanno giocato bene loro sono una squadra forte però anche noi sono veramente contento che abbiamo chiuso la partita in tre set perché dimostriamo abbiamo dimostrato che siamo una squadra che quando quando conta sempre ci siamo quindi è stato importante adesso testa alla prossima partita c'è Perugia fra una settimana quindi comunque una sfida anche importante si affrontiamo ogni partita nello stesso modo però Perugia è una partita importante e abbiamo come sempre il lavoro da fare grazie